Benvenuti in questi video sono Gionet5 e oggi siamo su Fortnite Sportive Cosa vuol dire questo? E' un'altra modalità di Fortnite che hanno aggiunto con il multiverso Oltre a quella di Lego e a quella della musica che lo vedremo più avanti, non adesso, quando uscirà Adesso è uscita quella delle macchine sportive, adesso vedremo com'è la modalità Intanto vi faccio vedere che nei incarichi noi possiamo completare queste due missioni qua Fronte le gare di Rocket League e mi sblocco una cosa qua, deve essere un veicolo E raggiungo la posizione ora di Rocket League e mi sblocco la skin Quindi dobbiamo sbloccare anche la skin, quindi per forza vincere in Rocket Racing Quindi faremo un po' di partite, non so quanto durerà questa serie perché magari Se le gare sono sempre le stesse, i circuiti sono sempre gli stessi, i tragitti, le cose sono uguali Magari può annoiare, quindi magari facciamo 10 episodi, se dura poco Se invece dura tanto, perché sono tante gare diverse, potremmo fare più episodi Potremmo fare, potremmo fare un po' più di episodi Non so quanti perché ancora, dovevo vedere la prima volta che ci vedo questa modalità Adesso andiamo a selezionare Rocket Racing Mettiamo i preferiti Ok E seleziona Ok, così me la trovo sempre Il filmato Ok, vediamo il filmato Ok, ho tolto la musica così non si sente la musica di tutto fondo Questa è la thing che sbloccheremo se prendiamo le cose Ok, va bene, si è completato la missione, è classificato oro, lo dobbiamo fare, dobbiamo arrivare in la posizione oro Primo Lama C'è un nome in pista Lui taglia Ok Quanti rifiuti ci sono? E' bello, c'è di tutto Va bene Fare esperto, Jones Sulle pareti Ok Jones l'ostacola La ostacola perché è la femmina Ah, sul soffitto Ok E vince Dobbiamo arrivare prima anche noi eh Andiamo venuto nel Rocket Racing Prima volta Ti consigliamo di completare i tutorial per femminizzare con le immagini di Rocket Racing Sprecerai sulla pista come un raggio in men che non si dica Penso che la Mega Trigger Racing usa un controller Vabbè, sto usando il controller Abbiamo questa skin, abbiamo questo, tutorial completo Fammi vedere un attimo Rocket Racing e tutorial completo Quindi faremo in questo episodio e facciamo il tutorial E poi nel prossimo episodio andiamo a fare le gare che dovremmo affrontare A fronte delle gare di Rocket Racing 10 e raggiungere la posizione oro in Rocket Racing Quindi dobbiamo arrivare ai primi Ok Va bene Ehm, allora, facciamo gioca Tutorial completo Tutorial completo In che senso il tutorial completo? Tutorial completo Non so, dobbiamo fare il tutorial Quindi dovremmo giocare questo Notamente vi farò due video Farò questo e un altro video Per farli tutti oggi Così Farò sia la partita che Il tutorial Tutorial lo facciamo insieme perché Almeno ci Capiamo qualcosa Perché magari io non capisco qualcosa E me lo potete dire voi nei commenti Quindi E' importante il tutorial Error in damage making Eh, rifallo Che ci posso dire Rifallo perché Dobbiamo fare le cose qua Devo fare la nuova modalità Quattamente gli episodi saranno Alternati con Lego Forza di normale Ehm Rocket Racing Ancora errore Non mi fa partire il tutorial Eeeh E quella della musica Che adesso vedrò Se c'è il copyright Se c'è il copyright Non ve la completo La musica Ve la faccio io off camera Tanto non dovrebbe essere un problema Ricercare gli aggiornamenti Stai ricercando gli aggiornamenti Vediamo se Fa partire cose Il primo episodio Parte da qua Magari i prossimi episodi Corsi in classifica Siano classificate la corsa Edessi che le piste Che potrei affrontare Saranno determinate La tua posizione Scala la posizione Fino alla riva diamante Per sbloccare tutte le piste Ah Più vai avanti Più sblocchi le piste Quindi dobbiamo giocare Anche questa modalità Ok Allora fammi vedere Passo a tagli Incarichi Inizio stagione 0 Inizio stagione 0 Completa legale Che sblocca le estetiche Completa legale Guida la distanza totale Esegui una della pata Per la distanza totale Attiva il turbo Attiva il turbo Vuola la presenza totale Quindi dobbiamo fare tutte queste missioni qua 35 missioni C'è da fare? Tu sei pazzo No 35 missioni Ah beh 1 di 7 1 di 7 Dove fare tutte praticamente Dove fare Ripetere più gare possibili Classificata E' giunti bronzo E' giunti bronzo E' giunti bronzo Argento Abbiamo oro Abbiamo platino Abbiamo diamante Elite E' campione Cavolo Quanta c'è roba c'è da fare? Giornalieri Guido segui una della pata per la distanza totale Per correre la distanza totale Per il turbo in aria Termine alle gare per primi 8 Senza demolire le auto Altre primi 8 Quindi c'è tanti giocatori E' da vedere com'è sta modalità eh E se parte magari riusciamo a fare qualcosa Se no non Non lo facciamo La quota è piena Attendiamo Aspetta che forse ci va Ok il video durerà un po' di più questo eh Poi c'è anche il tutorial Magari vi taglierò la parte iniziale Quindi forse non vedrete questa parte iniziale Se dura troppo il video Questa non riesco a caricarvelo Quindi se dura più di 25 minuti Non riesco a caricarvelo Quindi Per la mia connessione Quindi non riesco a A caricarvelo completamente Quindi vedremo Uh che bello Ok Partiamo Usa L e L per strezzare Ok Usiamo L e L per muoverci con E Se effetti delle curve strette La tua auto eseguirà una derrapata Ok Almeno ho capito La derrapata ricarica la propulsione Ok Quindi triangolo quando ho la carica Il tubo si ricarica con il passare del tempo Ok Ok It per saltare Ok It per volare Ok Devo tenere punto it Ok In piano stiamo imparando Premi it e la carica rapida per volare più lontano Ok Ok Bello sto rocket racing A imparare tecniche avanzate Scendo in pista Continua a imparare Cioè A imparare tecniche avanzate Impariamole Mentre sei in area Usa l'archivata aeree Per attivare rapidamente le parate Ok Ok Devo fare frecciate quadrato No ho svegliato Devo tirare dall'altra parte Ok Va bene Queste gare sono un po' complicate No ho svegliato Devo riprovare Quando e finchè non ci riusciamo Poi proviamo Ok ci sono riuscito Evite gli ostacoli davanti a te Ok Scusate della pata all'alto per effettuare cubi più strette Ah quindi della pata quadrato Ok Ok Stiamo capendo L quadrato Ok Ok Tutoriale completato Ritorno alla lobby Scendo in pista Fatto ok Abbiamo completato il tutorial Ok va bene Prima gara vediamo com'è Vediamo in quanti siamo Siamo in abbastanza persone Siamo in dodici Ok Rocket racing Della pata diurna La pista si chiama della pata diurna Ok Partiamo Come CTR Ok Siamo sesti No Mi ha girato Mi ha girato Questo non vale Sono ultimo Non vale No sono decimo Sono decimo Ok Nel quarto Deve seguire la deraffata Devo recuperare Altri giri sono Ok La pista è corta Quindi dura poco L'episodio Ok Devo Devo girare qua Ok Ok Sono quarto Prima gara non è male Secondo me Depende se mi fanno sbandare Mi serve di essere più veloce di loro Ma che cavolo Che cavolo è successo Non vale sta cosa comunque No Guarda che mi fanno sbandare Ma barrano Dai non è possibile Se non è barale Perché tanto lo fanno Cioè È una cosa lecita del gioco Però Non è giusto Sono arrivato decimo Va bene dai È durato 5 minuti E allora facciamo più di una gara episodio Decimo Ok Incarico completato Completa la prima gara È arrivato primo questo qua Tyler 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 Ft Decimo Ok Salve di classifico ok Meno male Brunzo Prossima gara Ok Facciamo più gara l'episodio Perché dura Dura poco la gara Magari è sempre la stessa gara Quindi forse È un po' ripetitivo Vedremo in che ricerca partita Sono due persone Ah sentiamo anche gli altri parlare No Non voglio sentire gli altri parlare Anche uno Nella mia lobby Non lo so Vai vai Carica Mi chiede Ok Vediamo di fare un'altra gara Sei minuti Qui possiamo fare un'altra gara Possiamo farne tre episodio Qui possiamo fare un'altra gara Possiamo farne tre episodio Di fortnite E in più Devo caricarvi anche I Le partite Gli altri giochi Che sono da telefono E gli altri da playstation Quindi tipo minecraft Tipo CTR Quindi è un casino gestire tutto Adesso magari vi Avrò messo Gli episodi insieme Di football Farò un unico episodio Per gara Perché se no Per partita Perché se no Non riesco a A farci stare tutti gli episodi Di fortnite Che farò tutte in modalità Quindi ci vorrà un po' di più Naturalmente quella della musica Non so se ve lo faccio Perché dipende Se c'è il copyright Quindi vedrete Un po' di Vedrete la prima volta Dopo se c'è il copyright Non lo faccio più Perché non posso farlo Perché la musica c'è nel copyright Quindi se c'è La musica con copyright Non posso farlo Va bene Allora vediamo come è la gara Come parte Magari ne faccio solo due Di gare eh Due episodio Perché se il caricamento Dura così tanto Secondo me due gare Episodio va bene lo stesso Naturalmente giocherò Anche off camera Quindi ci vorrà Farò anche della roba off camera Tanto non penso che Vorrete vedere Tutte le gare al 100% Anche perché giocarei spesso Quindi non riuscirei A caricare tutti gli episodi Adesso facciamo questo Ecco Ecco magari il tutorial E la prima gara Posso mettervi Le prime gare Posso metterle Nello stesso episodio Così Così vi carico un video unico Queste gare Sembbero fantastiche Però non ci riesci A manovrare molto bene Quando sono le curve Molto impegnative Devo fare quadrato E girare Quindi devo fare Devo essere un po' più Verocizzato Ma se parti Magari nella cosa giornata Possiamo fare la partita Se no la gara Se no Cioè Facciamo altro Cioè Devi andare a caricamento lungo Così I caricamenti sono più lunghi Quindi ci vorrà un po' di più Adesso forse sta caricando Ok Sta caricando Ah è matchmaking annullato Niente ci tocca rifare la partita Ok vai Rifai Ricarica Andiamo facciamo un'altra partita Perché questa è durata poco Quindi posso farvene un'altra Magari se voi volete Che facci solo una partita episodio Ve la facci solo una Eh vabbè Disabilitato Cioè Errore del matchmaking Caverna ad ossa Quindi una nuova pista Voglio fare la nuova pista io Davvero dei dati Personalizzare teo auto Niente Niente non possiamo farla Se ci fermiamo qua Se non possiamo farlo Allora Proviamo a fare una cosa Una cosa simile appunto Allora Proviamo a fare tipo Allora Io Seleziono Lego No Seleziono Battaglia reale Ok Seleziona Ok Vediamo se funziona Ok Che mi ha messo Ora Ora se noi andiamo di nuovo su rock tracing Dovrebbe partire il La possibilità di farlo No No non parte Quindi devono ancora sistemare dei problemi E' ancora In fase beta Questa modalità E' ancora da vedere Adesso vedremo Ah no Parte Allora se parte Vediamo se parte adesso Bene Se no ci fermiamo qua Perché se ancora in fase di ristrutturazione Questa modalità Bisogna aspettare Bisogna aspettare Perché Se no Non possiamo stare qua in caricamento tutta la vita Quindi Ho fretta Voglio fare cose Voglio fare modalità Voglio fare esperienza Voglio fare un sacco di cose E quindi Bisogna Bisogna fare Quello che c'è da fare Niente Non parte Errore matchmaking Non parte Quindi ci fermiamo qua A questo punto Magari Ah no Posso rifare di nuovo Ok Proviamo finchè riusciamo Proviamo altre un po' di volte Se si blocca Se si blocca Vi faccio Vi stoppo qua il video E dopo vedete il prossimo episodio Un'altra gara Non so se è sempre la stessa gara Perché le gare vanno un po' casualmente Andranno Perché sicuramente le metteranno casuali Non è una gara scelta Non puoi scegliere il tipo di gara Nel circuito Quindi è da vedere Ok Vediamo Questa modalità mi piace Non so se è meglio di Lego Però mi piace Quindi vorrei giocarla Per favore Per favore Fammi giocare Che voglio fare Questa modalità Niente Non me la fa fare Error Mesh making Proviamo l'ultima volta Se non parte Niente Se no Vi faccio Vi faccio altro Adesso 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 questa è durata 12 minuti Magari Quindi 12 minuti più E l'altro episodio del tutorial Da 10 minuti Prima gara Facciamo l'ultimizzativo Se va Bene Se no Ci fermiamo qua Ok Ci fermiamo qua Tanto penso che Non penso che partirà Ormai mi sono già Arreso Non parte Non parte Non parte proprio Quindi ci fermiamo qua Quindi va bene Io spero che Tutto abbiate capito Naturalmente mentre sta caricando Vi dico che Il video da telefono Magari usciranno Come terzo video Perché ho troppa roba Da caricare sul canale Ho un sacco di video Da caricare sul canale Infatti non parte Quindi va bene Dai ci fermiamo qua Rocket Racing Ci fermiamo qua Quindi va bene Io spero che il video Vi sia piaciuto Sia del tutorial Perché saranno due video attaccati Il primo e il secondo video E io vedrò se parte Se no vi faccio un gioco ad altro Perché se no Se sto sempre qua Impallato a giocare a questo Non riesco più a fare niente Quindi Devo fare altro Quindi Eh Magari lo faremo più avanti Magari più avanti Feremo due gare all'episodio Per fare un episodio Normale E niente Dai io spero che il video Vi sia piaciuto O i video perché saranno Due video attaccati Se riesco a caricarvi E attaccati Perché devo castrare l'uno Con l'altro Non so Chi sta sta ascoltando Questo fine video Quindi Anche da capire Chi stia guardando Questo video fino alla fine Mi ricordo che dovete Guardare i video fino alla fine Perché più Più visualizzazioni Farate più meglio Eh Quindi guardate i video Tutti completi Niente Io vi lascio un like Un commento appena La vostra opinione Iscrivete al canale Condividete E noi ci vediamo un prossimo video A presto Cosa ho fatto? Ok a presto Ciao 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 Ciao